Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta allo yogurt di fragola con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti compresa la cottura in forno. Gli ingredienti sono yogurt di fragola, gocce di cioccolato, farina, olio di semi, lieve di impolvere per dolci, vanillina e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a polverizzare lo zucchero per 15 secondi a velocità 10. Andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti, la farina, l'olio, lo yogurt, il lievito, e la vanillina. E andiamo ad amare il tutto per 1 minuto e 30 A velocità 5 Adesso uniamo al composto 3 uova e amalgamiamo il tutto per 1 minuto a velocità sempre 5 Il nostro composto è quasi pronto Aggiungiamo le gocce di cioccolato Facciamo andare il composto per 30 secondi Anti-orario Velocità 1 Nel frattempo abbiamo imburrato una stampa a cerniera e abbiamo acceso il forno a preriscaldare a 180 gradi Mettiamo a cucinare per 45 minuti Torta lo yogurt fragole e gocce di cioccolato nella variante con lo stampa a cuore e rotonda Grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti